Chi è il bersaglio? I miei clienti vogliono sapere se la cosa è fattibile. Gli costerà. Cento milioni sono tanti. Voi mi pagate per ucciderli. Io vi chiedo i soldi per farla franca. La polizia di tutta Europa lo sta cercando. Stiamo contattando i nostri partner internazionali per chiedere aiuto. È un assassino eccezionale. Ucciderà di nuovo se non lo fermiamo. Non c'è traccia di lui, da nessuna parte. Quest'uomo è un fantasma. Sono sicura di poterlo trovare. Ho sentito parlare bene di te, Bianca. Non mi deludere. Il suo nome in codice è Sciacallo. È un emulatore. Oh mio Dio! Qualcuno ha ingaggiato Sciacallo per un altro lavoro. Che cosa fai? Se ti avessi detto la verità, ti avrei persa. La tua è una caccia a un fantasma che non aiuta la reputazione del Dipartimento. Davvero pensate che dovremmo lasciar perdere? Io non sono disposta a mollare tutto. C'è un limite a ciò che posso fare per proteggerti. Giuro che lo troverò e giuro che lo ucciderò con le mie mani. Un solo uomo non vale tutta questa perdita. A me piace vincere. Anche a me. Voglio solo sapere chi sei. Anche a me. A me piace a me.